Ciao a tutti ragazzi, allora innanzitutto voglio dire che farò questo video con cam e microfono perché praticamente ho la fotocamera inagibile, quindi posso farlo solo così sicuramente si bloccherà, andrà a scatti, quindi non fateci caso perché ho il pc completamente bloccato, la cam che mi fa impazzire quindi niente, è un casino, posso farlo solo così allora, come molti di voi sapranno su facebook soprattutto partecipo al contest che Ligabue ha lanciato circa un mesetto e mezzo fa su internet vi spiego, il contest è diviso in date e l'artista che riceve più voti per i propri video può aprire il concerto di Ligabue nella città per cui appunto ha partecipato al concorso credo che sia un'occasione grandissima perché noi artisti emergenti abbiamo molta difficoltà a farci ascoltare, a farci conoscere e quindi queste occasioni siccome non capitano tutti i giorni e meno male che c'è internet, meno male davvero, bisogna accoglierle al volo, assolutamente e niente, però ho bisogno di voi qua sotto, nel box informazioni, trovate il link e tutte le informazioni per votare ovviamente se vi piace, non vi obbligo, dovete appunto esprimere il vostro voto se vi piace o non vi piace ricordo che si può votare soltanto una volta quindi non tornateci i giorni dopo perché tanto vi dirà che avete già votato quindi niente, siccome molta gente mi ha scritto dicendomi appunto ah ma si può votare soltanto una volta, sì quindi non tornateci e niente, volevo ringraziare tutti voi su YouTube in particolar modo su Facebook perché non so, davvero, siete troppo carini c'è tantissima gente che mi scrive tutti i giorni e mi sta sostenendo soprattutto in questa cosa perché sanno quanto potrebbe essere un'occasione d'oro e non ho mai parole per descrivere la gioia che mi date perché è una grande gioia le vostre parole sono davvero non lo so, mi danno una grande forza per continuare perché a volte è talmente difficile che magari si hanno un po' dei momenti così però ricevere sostegno e parole di conforto da tantissima gente, da tutti voi è davvero bello, davvero quindi grazie di cuore davvero e mi scuso se non riesco a rispondere sempre perché a volte mi ritrovo la posta di Facebook piena di messaggi quindi non riesco a rispondere a tutti a volte mi capita che mi scordo i messaggi oppure mi scende talmente tanto la posta che non li vedo più quindi li salto, poi me ne accorgo dopo insomma, mi raccomando, perdonatemi prometto che vi risponderò e se non vi rispondo aspettate perché vi risponderò grazie ancora a tutti di cuore volevo dire un'altra cosa siccome molti mi chiedono ma come posso comprare il tuo singolo fino a te allora dovete scrivermi a info-lavalentinamusino.com oppure scrivetemi direttamente su Facebook vi darò i dati del pagamento la cifra del singolo è davvero bassissima perché quello che interessa a noi è avere un riscontro da parte vostra sapere se vi piace o non vi piace insomma non è tanto il guadagno perché davvero è bassissimo però chi l'ha comprato lo stanno comprando in tanti me lo stanno richiedendo mi stanno dando grandissime soddisfazioni accetto le critiche accetto tutto assolutamente quindi se volete acquistarlo mi scrivete e vi manderò il link di o di Paypal che si può comprare tramite Paypal quindi tramite carta di credito e automaticamente mi arriva in modo istantaneo il vostro pagamento quindi il giorno dopo il giorno stesso vi mando il cd con la cartolina con i ringraziamenti e un contatto messenger dove possiamo parlare chiacchierare e tutto perché io su messenger non ci sto molto oppure se ci entro ci entro soltanto per lavoro quindi non non entro molto cioè non lo uso molto però vorrei assolutamente avere un contatto con tutti voi con tutti quelli che l'hanno comprato per insomma estaurare un rapporto un'amicizia o comunque sapere quello che ne pensate di quello che faccio delle mie canzoni della mia musica e tutto ovviamente dico mie canzoni ma sono del mio autore Ezio Citelli e e niente questo quindi mi raccomando scrivetemi e e niente penso di aver esaurito le parole questo forse questo video durerà dieci minuti alla fine chiuderete per per perché non mi sopportate più e quindi niente un bacione a tutti grande 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 davvero buona estate mi raccomando divertitevi e e ricordo mi raccomando il link qua sotto per votare un bacio grazie grazie a tutti